Il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, intervenendo agli stati generali di Roma, ha dichiarato. Siamo stati in contatto con leader europei e americani tutta la notte, per monitorare la situazione libica e dei paesi nordafricani. In questo momento è importante che non ci siano violenze, ma è necessario prestare attenzione a ciò che avverrà quando questi regimi saranno cambiati, regimi con cui trattiamo e che sono importanti per la fornitura di energia. Auspica inoltre che gli scontri che si stanno verificando in Nordafrica non portino al rafforzamento di derive fondamentaliste islamiche. Anche il ministro degli esteri, Franco Frattini, dichiara che, a parte Muammar Gheddafi, per quanto concerne la Libia, non conosciamo nient'altro. Ci è difficile immaginare uno scenario futuro se non quello che riguarda la possibilità di esodi biblici di immigrati nell'ordine di 300.000 persone. Si è unito nel condannare il genocidio compiuto dalla milizia libica, ribadendo il cessare delle violenze, onde evitare lo sfociare, inevitabile, nella guerra civile. Dopo il discorso di Gheddafi pronunciato nella tarda serata di ieri, in cui ha definito i rivultosi ratti e drogati, invitando il popolo alla guerra civile e alla persecuzione dei ribelli, nella giornata di oggi, Mohamed Zvei, presidente del Parlamento libico, ha dichiarato che, la calma è stata ristabilita nella maggior parte delle grandi città della Libia, dove forze di sicurezza e esercito, hanno ripreso il controllo.